Salve, sono Sabrina Sambati, signora associate di LabLow. C'è una grande attenzione al tema della persona, una centralità dell'individuo e delle capacità individuali di ciascun lavoratore, quindi un'azienda, un'impresa moderna che mette al centro l'individualità. Il valore di un evento come questo è sicuramente avere la possibilità di chiedere direttamente a grandi aziende che hanno un osservatorio privilegiato e su questo hanno avuto la possibilità di portare la loro esperienza e focalizzare il tema che è la centralità della persona e delle sue individualità, della sua riconosciute e implementate attraverso il valore della formazione. Io ho coordinato il tavolo sulla diversity. Sicuramente è venuto fuori la necessità di fondare una cultura della diversità. Ci sono degli eventi in particolare, quale il sopraggiungere della maternità, che rappresenta uno stop importante nella carriera soprattutto delle donne. Per cui su questo c'è stata un'attenzione particolare, tant'è che una delle nostre proposte è stata proprio quella di procedimentalizzare, creare una procedura che abbia ad oggetto l'ascolto del lavoratore e quindi la sua disponibilità a riprendere esattamente il suo posto di lavoro e quindi le mansioni nelle quali era prima adibito.